Ciao ragazze, sono di nuovo io Volevo ringraziare tantissimissimissimissimo il mio ragazzo Per aver fatto la nuova intro che mi piace da morire E questo è il mio gatto Non so se avete notato la postazione più figa del solito Cioè non è che è più figa del solito Abbiamo dovuto sistemarci in modo diverso Perché c'era venuta la scimmia di fare il video di sera E allora ci siamo organizzati in modo più figo Stasera ho intenzione di parlarvi di tinte Di cosa succede ai capelli quando subiscono una tinta Allora, molte ragazze quando vengono in salone da noi Prima magari di fare una tinta sono preoccupatissime, spaventate Non sanno che cosa succederà ai loro capelli Dal punto di vista magari del tatto oppure della vista Se sembreranno più rovinati eccetera eccetera Oggi vi parlerò di tinte naturali Ma naturali non nel senso di erbe come le nee Di cui poi parlerò in un altro video Ma di colori naturali Una tinta che sembra naturale Che non sembra una tinta Lo so che sembra un po' un gioco di parole Però è così che lo giuro In questo video non parlerò del nero perché il nero non è un colore naturale Molte di voi magari non saranno d'accordo sul fatto che il nero non sia un colore naturale Ma magari c'è una ragazza che ha i capelli molto 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 scuri Un castano davvero scurissimo e sembrano neri Ma in realtà il nero non è un colore naturale Poi voglio anche dirvi subito che cosa vuol dire capelli vergini Lo dice la parola stessa Che sono illesi da ogni forma di trattamento Tinta, depolorazione, permanente, cose del genere Comunque sia Vari trattamenti Non soffriranno tanto se subiranno una tinta Se una ragazza è bionda e vuole diventare scura Che sia un cioccolato al latte o un fondente o sia un po' più scuro Non sarà tanto un problema Perché scurire fortunatamente per chi volesse diventare scura non è un problema Ovviamente lo sconsiglio a chi è bionda naturale Perché secondo me il biondo è uno dei colori più belli che esistono E quindi sconsiglio a tutte le bionde di diventare more Per fare una parentesi io tipo sono stata rossa, castana e bassa Però tipo ero bionda e mi era venuta la scimmia del rosso E allora avevo fatto il rosso con le ne Poi da rossa sono ritornata bionda Non mi andava più di essere bionda allora sono diventata castana Insomma sono stata di tutti i colori Alla fine tornerete bionde È quasi sicuro Il capello apparirà visibilmente più lucido Perché lo scuro fa sembrare il capello più lucido Per la ragazza invece castane La difficoltà nella schieritura si incontra da quanto è scuro il capello ovviamente Se il capello che dobbiamo andare a trattare non è così tanto scuro La schieritura sarà magari un po' difficile all'inizio Perché se il capello è molto resistente il colore tende a schierire di meno Se il colore è caldo si atterrà una schieritura molto naturale e molto figa Dal punto di vista del tatto lo troverete un po' più secco sicuramente Lo sentirete molto rubido all'inizio Io l'ho fatto e vi assicuro che è rubido È normale non preoccupatevi perché poi con maschere, trattamenti eccetera Ritorneranno sicuramente a posto Dal punto di vista visivo opaco, lucido non cambierà così tanto E invece se una ragazza è al cioccolato e vuole diventare scura Anche lì, come ho detto prima, per il biondo non si pone perché scurire ogni tipo di capello non è un problema Se invece una ragazza è molto 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 scura e vuole diventare molto 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 chiara Consideratela pure un'impresa perché il capello verrà distrutto Soprattutto se sono tinte con ammoniaca molto molto potente Io infatti consiglio quelle antiallergiche Sono tipi di tinte meno invasive Da un estremo all'altro Ossia da molto molto oscuro a... Scusate Da molto molto chiaro Come ho già detto il capello tenderà molto a rovinarsi E si verrà che si sarà rovinato Dal punto di vista sia visivo che pitatto Assolutamente si può ricorrere a maschere, olio eccetera eccetera Come ho già detto in un altro video Lo ribadisco così almeno il concetto sarà più chiaro Se una ragazza è molto scura e vuole diventare molto chiara La schiaritura deve essere molto graduale, molto lenta Ragazza che schiarisce il suo capello da scura poi diventa un po' più chiara E loro insani e così via Fino a quando non arriverai ad un biondo chiaro E avrai i capelli pseudo sani Pseudo perché comunque sia all'interno la fibra si sarà rovinata Dal punto di vista di tempo come schiaritura io consiglierei un mese Se invece una ragazza è scura e vuole schiarirsi di poco Cioè arrivare fino a un cioccolato Sarà molto più facile Avrete sicuramente avuto modo di notare Che dai primi video che ho fatto fino all'ultimo Ovvero Chubby Bunny Chubby Bunny è fantastico Ve lo linko qui sotto Sono ritornata più o meno bionda Ho fatto la tecnica della schiaritura dello chatouche Solo che magari non si vede così tanto Perché ho richiesto al mio parrucchiere di fiducia Anche io ho un parrucchiere di fiducia Di farmelo molto vicino alla radice Per tenere una schiaritura meno ricrescita Riga biondo Perché non mi piaceva molto E devo dire che sono davvero 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 contenta Del risultato che ho ottenuto E soprattutto perché le bionde naturali Se ci avete fatto caso Hanno questo effetto un po' di ricrescita più scura Delle punte un po' più sul chiaro Un po' più sui toni del dorato E questo è l'effetto che ho voluto ottenere Scusatemi per le varie interruzioni Quelle cose lì No Io vi saluto tutti Spero che il video vi piaccia Sia utile Un bacio Ciao 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 Ciao